Grazie a tutti. Volevo presentarvi Lorenzo Clemente. Ovviamente un grazie speciale a Marina che ci sta agevolando nella fusione dei due studi. Le coppie non devono essere gabbie, devono essere trampolini. Mi sei mancato. Anche tu. Ciao, io sto andando in piscina. Non mi aspettate per cena. Ci vediamo dopo, eh. Ciao. Guarda papà, c'è Michele in famiglia. Dai, non la disturbiamo. Salve, complimenti. Grazie. Scusami, non ti avevo riconosciuta. Avremo un bambino. Io e te avremo un bambino. No, io avremo un bambino. Senti Leo, non so più come dirtelo. È finita. Non è colpa di nessuno, ma è così. Io dico, quando è che mi liberano? Dai, pagatelo sto riscatto. Su. Papà. Nuovi casi davvero non servono. Con tutto il lavoro che abbiamo. Già così richiesta di prima mattina? Sai com'è quando uno è bravo? Avresti voglia di iniziare una nuova vita? A me la mia vita piace così com'è. Vi presento Viola, che da oggi lavorerà con noi in qualità di... Lava piatti. La mia pazienza ha un limite. Mi capito? Ti voglio che tu metti insieme una lista dei comportamenti di tuo marito che sono sbagliati, tossici. È una richiesta di affidamento esclusivo dei figli al padre. I bambini no. Secondo noi hanno in mano qualcosa. Ci sono dei video. Sorpresa! Buon anniversario. Buon anniversario. Vi lascio la vostra bella festa. Tu e Massimo, di cosa parlavate? Eh, niente, cose tra buono. Ti aspetto stasera a casa mia. Ogni matrimonio nasconde angoli bui che è meglio non illuminare. No. Podcast. Buon anniversario. Buon anniversario.